ah ah siamo qua con la sindina 1 2 3 4 5 sa anche contare però a al contrario ce la vai 5 4 3 2 1 ok si è un po bassa aspetta no te l'abbasso così 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 va bene la produzione ci ha messo tanto per portarti ok no perché c'eravamo preparati su un'altra roba era un gioco e abbiamo preso poi giro sì tanto improvvisiamo un po ok quindi facciamo rientro quando volete quindi rifaccio la parte da del coso c'è certo che capire cosa mi riesce a dire vorrei vedere le facce che sto facendo veramente io ho saputo anche che tu sei un esperto di baci cinematografici ho visto in un tuo video che tu ti sei baciata a livello cinematografico che fai un bacio siamo andati da fare presto e come si fa il bacio spiegaci proviamo magari a farlo vuoi provare a fare un bacio cinematografico magari no con o senza lingua ma tu lo sai si però raccopione non posso ma tu tu lo sai ok ci fai vedere quello con la lingua e quello senza la lingua è una vita guarda si si fa finta di aprire tipo pesci senza lingua però vuoi provarlo com'è no assolutamente no non è che puoi decidere di fare quello che vuoi sei l'ospite ma finì un certo punto quindi adesso tu prendi io magari lo faccio con te per favore sei una professionista dai che lo sappiamo tutti che sei una professionista del bacio dai non lo so non lo so ti chiamano thunder lips prendiamo pure le telecamere sicuramente è la bocca questa è la bocca è la bocca fatta così mi sembra qualcos'altro praticamente si avvicinano le labbra così si si fa finta si fanno del esatto è bravissimo è bravissimo ecco adesso me lo fai vedere con la lingua prima lo fai tu e poi lo faccio senza lingua perché se fa senza lingua io voglio vedere senza lingua però con la lingua guarda che la lingua non è un tabù infatti non è facile non è facile però sei molto bravo è un tabù ma intanto poi tu hai sempre il vizio nei tuoi video di fare con la lingua non è vero infatti io guarda mi sono montato dei video tuoi con la lingua che fai solo con la lingua allora facci questo video con la lingua sennò dobbiamo chiudere dammi uno spunto esatto esatto metti la lingua si metti pure la lingua ma la lingua va al rullino o va non va non va la lingua non va no non ci vuole far vedere con la lingua bene la ragazza sappiamo che non bacia con la lingua ok sei single esatto non so che dove dai rimaniamo qua il mondo è così no c'è chi dà chi c'è chi va chi viene comunque gli occhiali bellissimi grazie non è vero dai possiamo vedere la carta l'identità dopo assolutamente sì ok niente io intanto ti ringrazio e ce ne frega niente ferma così ho pure fatto la foto ha fatto pure la foto e l'ho postata su facebook spieghiamo un po' questa esperienza no 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 comunque mi seguono comunque ragazze anche più piccole possiamo andare avanti un po' oltre o con l'intervista come si vive come potete potete cliccare sul sulle labbra di sindina la sindina la sindina non clio make up diciamo che oltre ad accrescere un po' le mie le mie conoscenze riguardo anche se diciamo che a differenza di i ragazzi che magari fanno intrattenimento quindi fanno commedie fanno sketch devono avere diciamo delle conoscenze più approfondite riguardo a luci colore eccetera io ecco io diciamo che tutto tutto il bello lo metto nel talento nell'arte del trucco poi vabbè luci eccetera c'è ancora gente al giorno d'oggi che va a rubare il motorino alle ragazzine cioè col trucco si maschera sempre cerchiamo di mascherarci bene quindi andare oltre addirittura ecco noi continuiamo e capire un attimo esatto inizia tu vai vai io potrei togliere le mutande guarda non ci sono neanche problemi no no sì sì a proposito di trucco volevamo clio make up però purtroppo non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta venire ma non è un problema della vita bisogna accettare quello che viene c'è purtroppo nella vita non sia sempre successo no diciamo che abbiamo fatto un po apposta farsi io so che tu in realtà vorresti fare la dottoressa abbiamo un contributo tv adesso ritorniamo dal contributo a proposito di non sono un esperto però diciamo che ho avuto questa esperienza a roma una base che tengo tesoro dei consigli sul make up che mi dà soprattutto sull'oncologia volevo ricordare comunque una cosa seria adesso preservativo sempre non mi ci sono mai appassionata più di tanto per la mancanza di tempo però subito dopo il liceo ma cambiando domanda bravi tutti tubo